Si sono tenuti a Rocca Casale i festeggiamenti in onore di Fran Mariano. I festeggiamenti sono stati promossi dalla parrocchia di San Michele Arcangelo e dall'associazione Fran Mariano con il patrocinio del comune di Rocca Casale. Due sono i beati festeggiati a Rocca Casale, Diego Oddi da Villinfreda in provincia di Roma e Mariano da Rocca Casale proveniente dal convento di San Francesco di Bellegra in provincia di Roma. Perché oggi abbiamo la fortuna di avere qua a Rocca Casale il reliquario dei resti del Beato Diego e Mariano, due frati francescani che si sono elevati agli onori degli altari nel convento di Bellegra San Francesco, Roma. Quindi oggi abbiamo questo onore di avere il reliquario qui a Rocca Casale. Intorno alle 16.45 l'accoglienza in piazza Papa Giovanni XXIII del reliquario contenente i resti mortali dei due beati, poi la Santa Messa Solenne celebrata dal parroco Don Vincenzo Paura e presieduta da padre Virgilio del convento di San Francesco in Bellegra. In seguito il momento clou della manifestazione, cioè la processione fino all'aria attrezzata del Beato Mariano, seguita poi da fuochi preotecnici ed infine il ritorno della processione in chiesa. Tutta la comunità di Rocca Casale ha contribuito a dare vita ai festeggiamenti, momenti di preghiera e giornata all'insegna della fratellanza e della spiritualità, il segno del frate umile e generoso di Rocca Casale, beatificato da Giovanni Paolo II nel 1999. Fra Mariano, un beato proveniente dal mondo contadino, trascorse l'infanzia e parte dalla giovinezza dedito ai lavori nei campi. Nato a Rocca Casale da genitori poveri e devoti, a 24 anni entrò nell'ordine francescano e nel maggio del 1802 vestì l'abito di frati minori nel convento di San Nicol di Arissia come fratello laico. Il beato Diego Oddi nasce a Villinfreda, un grazioso paesino ai confini della provincia di Roma con l'Abruzzo. I primi 32 anni della sua vita li trascorse nel suo paese, aiutando la famiglia nel duro lavoro dei campi. Poi entra in convento dove vi rimane fino alla fine dei suoi giorni. Giuseppe Oddi, così si chiamava prima di entrare in convento, fu un beato anche in vita. Ovunque gli passava ha lasciato un profumo di santità, un'ansia di Dio ed uno stimolo alla conversione. Bastava vederlo passare o pregare o sorridere. Bastava il suo saluto familiare, sia lodato Gesù e Maria, perché ognuno, anche il più incredulo, sentisse una polata di fede passargli nell'anima. I festeggiamenti si sono conclusi in piazza Papa Giovanni XXIII, con un concerto bandistico della panfara della Polizia di Stato. Questa panfara risale a parecchi anni fa, quando io ancora non c'ero a dirigere questa formazione, ed era a cavallo praticamente. Poi furono appietati e da lì c'è stata una sorta di rinnovamento per farla diventare una banda di media grandezza, inserendo le percussioni, inserendo le ance ed altri strumenti che prima mancavano. in Prati, ecco.